Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di un tool molto interessante che si chiama Fortunes Permette di trovare le playlist su Spotify Che sono, diciamo, inerenti alla musica che facciamo noi Quindi ci permette di trovare delle playlist che possono aiutarci Nel momento in cui veniamo inseriti in queste playlist A trovare potenziali fan Perché appunto in queste playlist, diciamo, i curatori e le canzoni che inseriscono Sono canzoni simili alla musica che facciamo noi E questo strumento ci permette e ci fornisce poi tutti i contatti dei curatori L'email, in modo che poi possiamo contattarli Ringrazio già Luca Badessa di Promuovere Musica Che ha fatto un tutorial perché questo Fortunes.io In questo tool, in realtà, Fortunes, che cosa fa? Fa tantissime cose, vi dà un sacco di dati su tutti i vostri social Su tutte le vostre performance, vi permette di fare tantissime cose E vi rimando al suo tutorial Magari vi metto il link in descrizione Lui ha fatto un tutorial molto accurato su tutto quello che potete fare con questa app Fortunes E in descrizione vi trovate il suo tutorial dal suo canale Promuovere Musica è interessantissimo E poi vi linko anche il video che abbiamo fatto insieme Recentemente abbiamo fatto una bella chiacchierata Molto interessante Sul perché Spotify non riesce a pagare i musicisti come meriterebbero E ci ha spiegato un sacco di cose interessanti Perché è veramente importante anche capire il perché delle cose Perché paga in questo modo Spotify Perché come è strutturato Come funziona Un'app che è basata sulla scoperta Ma in quell'intervista spiega tantissime cose Già Luca vi lascio il video anche in descrizione Però adesso in questo video io vi voglio far vedere appunto come utilizzare Fortunes Per trovare le playlist Perché molto spesso noi cerchiamo playlist Però ecco se utilizziamo l'app di Spotify ce ne escono poche E poi ci sono vari altri tool e siti che permettono questa cosa E oggi vediamo Fortunes Sul mio canale YouTube ci sono anche altri video su come trovare le playlist giuste Su come trovare le playlist famose Abbiamo visto anche altri tool Magari vi metto anche qualche video correlato in descrizione E comunque vi chiedo se tutti questi argomenti vi interessano Di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate Ecco diciamo Ma entriamo nel vivo di questo Fortunes ragazzi Praticamente vi faccio vedere qua come è bello Come funziona bene Come ci permette di trovare le playlist E come ci fornisce tutti i contatti dei curatori Allora andate su Fortunes.io Vi loggate Ok Vi registrate e vi loggate Io mi sono già loggato credo Infatti ho qui dashboard Altrimenti ci sarebbe scritto login Eccomi qua Vedete Qui c'è praticamente la mia situazione I follower totali penso da tutti i social Che potete monitorare io credo di aver aggiunto Spotify Twitter Poi vi potete loggare con Facebook Comunque questo è un dato parziale Ok Qui ci sono tutte le funzioni Tutto quello che potete fare Se volete capire come fare Praticamente Dovete andare a vedervi il video tutorial di Gianluca Abadessa Su Promuovere musica Il link è in descrizione È inutile che io rifaccio il tutorial C'è il suo è fatto molto bene Io qui vi voglio far vedere la funzione Raccomandazione Se clicchiamo qui in basso Praticamente Allora Io ho cercato Praticamente Per la mia canzone La vita è un'altra cosa Alle migliori playlist Con i dati pubblici Ok E lui mi ha dato Secondo le indicazioni che gli ho dato Tutta una serie di playlist Che andavano bene Però adesso vi faccio vedere Quindi clicchiamo su Raccomandazione Poi Su create Così ne creiamo una nuova Ok E vi faccio vedere Dobbiamo selezionare una traccia Per esempio Mettiamo le mie ragioni L'altra canzone del 2020 Dobbiamo aggiungere il genere qui Mettiamo un Anche in questo caso Indie 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 Pop Anche in questo caso Ok Facciamo Fatto Quindi mostrami solo le playlist Che hanno i dettagli Dei contatti Quindi ok Lo spuntiamo E poi Minimo playlist follower Mettiamo almeno Mille follower Ok Clicchiamo E Ecco qua Cliccando sulle mie ragioni Abbiamo Tutte le playlist Che Rispecchiano appunto Il genere musicale Indie pop Hanno almeno mille follower Hanno praticamente I contatti pubblici Quindi quando noi andiamo qui E praticamente Clicchiamo su Questo Slaysonics Vedete che ci escono un po' di dati Tra cui anche il contatto In questo caso C'è il contatto Instagram Mentre se In altre playlist Potete trovare addirittura Anche la mail Per esempio Proviamo questa Qui c'è la mail Vedete Quindi cliccando su Contact Cliccando sulla Chiocciolina Vi si apre Il vostro software Per mandare l'email Oppure fate Tasto destro Col mouse Copia indirizzo E-mail Praticamente Avete la sua mail E praticamente Li potete mandare una mail Cliccando La vostra Mettendo il link Della vostra canzone Dicendo Wow Bellissima la playlist La tua playlist Complimenti Ci vedrai molto bene Il mio pezzo Ecco qui Il link Fammi sapere Se ti può interessare Se la vuoi inserire Ma Praticamente Proviamo a fare Un'altra ricerca Perché io Praticamente Canto in italiano Vorrei anche inserire Appunto La variante Diciamo Canzone d'amore Contro il consumismo Se io faccio Pop Poi faccio Indie Pop Qui mi dice Praticamente Italian Indie Pop Ok faccio Don't Ok Quindi abbiamo Il genere Lo abbiamo aggiunto Selezioniamo Playlist In cui sono visibili I contatti E poi almeno 1000 follower Ok Clicchiamo Su Get Ed ecco qui Il nostro Risultato Queste sono Tutte italiane Irma Records Vediamo se c'è Sono music Se c'è Sono solo queste Pazzesco Tipo questa Urban Italian Mag C'è Praticamente Ecco qua La mail E Tutti i contatti Anche qui Cliccate su contatti Avete La mail Molto interessante E potete Praticamente Cercare le playlist Avete anche i contatti Vi ho fatto vedere Come si fa Per tutte le altre funzioni Vi rimando Al tutorial Di Gianluca Abadesa Di promuovere musica E lui Veramente in gamba E spiega tutto Nel dettaglio E lui che mi ha segnalato Questo Questa app Io ci ho voluto fare Un video Su questa specifica funzione Che è molto interessante Non è gratuito Ultima cosa Che ci rimane da dire Non è gratuito Ma Praticamente Io sto usando Un periodo Di prova Di dieci giorni Andiamo a vedere Quanto costa Ci costa Al mese Sette euro e novantanove Dopo i dieci giorni Se volessimo Continuare ad utilizzarlo Dovremmo pagare Otto euro al mese Possiamo anche Monitorare altri artisti Tutti gli artisti Che vogliamo Però ovviamente Ogni artista Che aggiungiamo Il prezzo aumenta Non so Andate su Fortunes Punto io Registratevi Almeno potete Fare delle ricerche Per i primi dieci giorni È gratuito E vi può essere utile Per trovare playlist Interessanti Poi se volete Vi abbonate E se volete Approfondire Tutte le altre funzioni Guardatevi il tutorial Di Gianluca Magari ve lo faccio Sbucare anche qui E vi metto anche Altri video correlati Comunque in descrizione Trovate tutti i link Fatemi sapere Se conoscevate Questo strumento Se vi è piaciuto E se intendete Provarlo E se questo video Vi è stato utile Vi chiedo di supportare Come sempre Il canale Commentando Mettendo tanti like Commentando ogni video Iscrivendovi Se non siete iscritti Ancora al canale E attivando la campanella Per restare Aggiornati Per oggi È tutto Vi aspetto nei commenti Voglio sapere Che cosa ne pensate Di questo strumento E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao Grazie a tutti Ciao